Tra le discussioni sulle riforme del calcio si sta tornando a parlare del tempo effettivo. Il tempo effettivo non è il tempo effettivo di gioco, cioè quanto effettivamente il pallone è stato in gioco tra le due squadre nell'arco dei 90 minuti. E mi ricordo sempre una volta in cui Stefano Pioli in conferenza stampa da allenatore del Milan parlò del tempo effettivo un po' basso in Serie A e tutti capirono, ah Pioli è a favore del tempo effettivo sul cronometro, che è una cosa diversa. Appunto il tempo effettivo sul cronometro è che la partita non dura più 90 minuti, due tempi da 45, che continuano a scorrere, secondi e minuti che continuano a scorrere indipendentemente dal fatto che il pallone sia in gioco o meno, ma appunto tempi diversi con il cronometro che si interrompe quando la palla non è più in gioco. Quindi da una parte abbiamo il tempo effettivo attuale che viene calcolato ovviamente con i software di statistica sul calcio e che ci dice che molto spesso in Serie A si gioca troppo poco, addirittura anche la metà dei 90 minuti, inteso proprio come pallone in gioco tra le due squadre, quindi si perde troppo tempo. E dall'altra parte abbiamo il tempo effettivo come rimedio, come riforma veramente epocale per il calcio, che equiparerebbe il calcio ad altri sport e ne cambierebbe radicalmente anche la dinamica. Attualmente infatti quello che vediamo dipende anche dal dispendio energetico che a sua volta dipende dai tempi di gioco, cioè i calciatori sanno che devono fare 45 minuti e vanno a parametrare il loro sforzo fisico, ma non solo durante la partita, anche in tutte le sessioni di allenamento di preparazione, sulla base di quei 45 minuti per tempo con un intervallo di un quarto d'ora. Cioè per dire, prima di una partita che potenzialmente ti porta ai supplementari, si fa un allenamento che ti può portare magari ad un aumento della resistenza se possibile, cioè ci arrivi preparato, lo sai che ti può capitare. Mentre se devi giocare solo partite da 90 minuti, ti allenerai per poter giocare al meglio dal punto di vista atletico partite da 90 minuti. Modificare la durata delle partite modificherebbe inevitabilmente la dinamica delle stesse, anche come sforzo fisico. Ma come d'altra parte un impatto fondamentale c'è stato con le 5 sostituzioni rispetto alle 3 di prima, che a loro volta erano una novità per tempi risalenti in cui le sostituzioni non c'erano. Si andava in campo con 11 giocatori, se qualcuno si faceva male si restava in 10. Le regole cambiano le cose, e a volte le cose cambiano le regole in base alle necessità che sorgono. Ma c'è davvero la necessità di arrivare al tempo effettivo sul cronometro? Il dibattito è partito dopo i mondiali in Qatar, dove si è evitata qualsiasi perdita di tempo effettiva, rimborsando tutti i secondi persi con i recuperi mastodontici che sono stati concessi dagli arbitri a fine tempo, anche a volte all'intervallo. 7 minuti, 10 minuti, 14 minuti, praticamente altri mini tempi. E si è arrivati anche all'assurdo che i minuti e i secondi di recupero generavano a loro volta ulteriori minuti e secondi di recupero, determinando di fatto una partita infinita o con un tempo indefinito. E c'era il timore che questa prassi nuova potesse ripercoddersi anche sulle competizioni tra club, ma ciò non è avvenuto. Ora, l'introduzione però di questo correttivo potrebbe essere anche un modo per snaturare il calcio, per ridurre sì le perdite di tempo, ma ripeto, per cambiare davvero tante cose. Inevitabilmente si continuerà a discutere di questo, non è una novità che sta per arrivare in maniera imminente, ma è giusto ed è legittimo esprimere la propria opinione. La mia è un'opinione avversa, contraria. Sono contrario, non sono favorevole all'introduzione del tempo effettivo nel calcio, che renderebbe tra l'altro le partite di calcio incerte nella loro durata effettiva se parliamo di tempo e basta, non di tempo di gioco. Cioè la partita comincia alle 18, ma non finisce automaticamente entro le 20, recupero compreso, perché visto che c'è tempo effettivo potrebbe durare anche molto di più. E questo secondo me sarebbe deprecabile sotto molti punti di vista, soprattutto quello dello spettacolo. Se vogliamo attrarre più persone, bisogna avere anche tempi certi di gioco, altrimenti uno entra allo stadio ad un'ora e non sa a che ora esce, oppure si siede a guardare la partita ad un orario e non sa a che ora finisce. Inoltre, mentre il tempo attuale impedisce in qualche modo le perdite di tempo, nel senso che c'è comunque il recupero, ma finché non rimetti in gioco il pallone, il cronometro continua a scorrere, con il tempo effettivo, quando la palla non è in gioco, uno potrebbe anche prendersi tutto il tempo che vuole, tanto il cronometro è fermo e quindi non è detto che si andrebbe a intensificare lo sforzo atletico e anche la spettacolarità con partite più intense. Per questo il mio personale suggerimento per un correttivo è una via di mezzo. Lasciare il tempo delle partite così com'è, ma introdurre una sorta di tempo effettivo quando la palla non è in gioco. Cioè dare un tempo standard, massimo, per la ripresa del gioco. Devi battere un calcio di punizione? L'arbitro fischia, fischia anche quando non dovrebbe farlo, nel senso nei casi in cui non è previsto dal regolamento che per la ripresa del gioco sia necessario il fischio e dopo quel fischio, che è un fischio di richiamo o può essere anche un altro segnale, si hanno 5 secondi effettivi di tempo per rimettere in gioco il pallone. Se si sforano quei 5 secondi o quello che volete, la palla passa all'avversario. E la stessa cosa per le rimesse laterali, per le rimesse dal fondo, per i calci d'angolo. Incidere sulle perdite di tempo più che sul tempo effettivo. Ridurre il tempo in cui il pallone non è in gioco invece che giustificare quel tempo perché tanto il cronometro è fermo. Ecco, potrebbe quasi essere un paradosso andare a peggiorare la situazione mentre si dichiara di voler intervenire per migliorarla. My two cents. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con la mia proposta? Siete d'accordo con la situazione così com'è? Oppure sareste favorevoli al tempo effettivo nel calcio? Siete d'accordo con la mia proposta?